del Presidente Lolo Brigida, componente del Capogruppo della Commissione Antimafia e abbiamo naturalmente i colleghi capigruppo del Senato della Commissione Antimafia qui in presenza e grazie, grazie naturalmente agli amici della stampa e a tutti i colleghi che in remoto ci stanno seguendo. Vorrei essere chiara nella presentazione di questa conferenza stampa, si tratta di una questione istituzionale dal che il titolo della conferenza stessa. Il Presidente Morra è Presidente di una Commissione di Garanzia a cui sono affidati compiti di un'importanza di applicazione, ecco anche il Presidente Lupi è arrivato ora, grazie, grazie di essere qui in presenza, a cui sono affidati compiti di cui non è necessario io tratteggi l'importanza qui, voi tutti lo sapete. Si tratta di un ruolo di garanzia, quindi che presuppone terzietà, equilibrio, imparzialità, rappresentatività, ecco il Presidente Lupi che si affianca a noi, di tutte le forze politiche dell'arco parlamentare, ma soprattutto di tutti i cittadini italiani. Noi riteniamo, senza voler ulteriormente aggettivare qui e ora i colleghi Romeo e Rauti ed io, faremo semplicemente un'introduzione e poi saranno i capigruppo della Commissione antimafia a spiegare il perché in maniera più dettagliata. Noi vogliamo spiegare il motivo per cui riteniamo che non esistano più le condizioni. A fronte di parole incompatibili con un ruolo istituzionale e di una crudeltà inspiegabile e imperdonabile, riteniamo che non esistano le condizioni per partecipare alle sedute della Commissione e dei comitati antimafia fino a che non riceveremo le dimissioni del Presidente Nicola Morra. Lo facciamo perché purtroppo le scuse non sono possibili. Il Presidente Morra è una persona che non è capace di scusarsi. Nel momento in cui abbiamo chiesto, in una fase preliminare, a fronte di espressioni che francamente il collega Vitali lo sa, nel momento in cui me le ha comunicate, non potevo credere esistesse in capo a qualcuno la capacità di esprimere dei concetti così violenti. Dicevo, la prima tornata di scuse è stata, come dire, imbarazzante. Cito testualmente, la prima scusa è stata, sì mi scuso però, ho ragione nel dire che i calabresi hanno sbagliato nel votare una persona segnata, sottolineo, segnata dalla malattia. Una cosa che fa venire i brividi evoca quasi l'eugenetica nazista. Offende la memoria di una persona che ha dedicato la sua vita non solamente alle istituzioni, ma alla sua terra, che ha vissuto con coraggio, con dignità e soprattutto in maniera assolutamente trasparente la sua malattia. Offende i cittadini calabresi, evidentemente ritenuti incapaci di intendere e di volere, se non quando votano secondo quello che si ritiene sia l'unico voto possibile, ossia votano sulla base dell'indicazione del Presidente Morra. E soprattutto offende persone che noi dobbiamo tutelare e a cui dobbiamo garantire una vita normale, un'assoluta inclusione e inclusività, ossia i malati oncologici. Guardate, questa è la cosa che in assoluto mi fa pensare che sia molto difficile per una persona che ha pronunciato queste parole e che ha potuto esprimere concetti così ghettizzanti, ricoprire un ruolo istituzionale anche a fronte di scuse pur tardive. Io ho avuto esperienza personale come tutti noi di malati di cancro, che hanno combattuto in maniera gagliarda, coraggiosa, straordinaria la malattia, che hanno normalizzato, perché il messaggio che noi istituzioni dobbiamo dare è che la malattia è compatibile con la vita, bisogna vivere. Si è parte di una società che non ti considera un escluso, non ti considera una persona da mettere da parte, ma ti considera una persona temporaneamente in difficoltà, che deve essere aiutata a ritornare alla normalità e che aiuta molto spesso. Io so di medici che hanno fino all'ultimo giorno lavorato in corsia, pur se malati di cancro. Quindi la cosa che trovo veramente più, guardate, non lo voglio nemmeno aggettivare. Incompatibile, mettiamola così, incompatibile con un ruolo istituzionale. È proprio la sequenza crudele di queste frasi. Io credo di essere stata sufficientemente chiara, ripeto, non volevo credere, ho ascoltato più volte la registrazione. La registrazione iniziale e la registrazione delle cosiddette scuse, che è stato, come posso dire, un avvoltolamento in frasi sempre peggiori, come un modo per buttare la palla in tribuna e stornare l'attenzione è altra cosa che sinceramente non ci è piaciuta. Tentativo di portare altrove l'attenzione, ma il problema è l'offesa profonda, lo sfregio profondo prima di tutto all'istituzione e poi a categorie di cui noi dobbiamo garantire la libertà e la tutela. Tutti noi, in particolare chi in funzione di Presidente riveste un ruolo istituzionale. Passerei la parola al Presidente Romeo, poi al Presidente Rauti per poi di cominciare con la Camera e poi passiamo la parola ai capigruppo della Commissione Antimafia. Sì, buongiorno a tutti, grazie per tutti i presenti, per l'organizzazione e anche i vari uffici stampa. È bello vedere tutto il centrodestra unito, siamo tutti insieme e tra l'altro ci auguriamo che in un momento difficile, particolarmente difficile del nostro Paese, sia a livello economico sociale, ci sia da parte del Governo Conte una risposta seria nei confronti delle istanze che tutto il centrodestra sta portando avanti, sulla richiesta dell'abbassamento delle tasse, sulla richiesta dello sostegno agli autonomi, tutte quelle che sono le numerose proposte che stiamo portando avanti da tempo. Fatta questa premessa, oggi siamo qui tutti insieme per valutare con attenzione che non venga dimenticato questo spiacevolissimo episodio che è successo con le dichiarazioni, direi, incredibili, imbarazzanti, come è stato detto bene prima dal capogruppo Bernini, da parte del Presidente della Commissione Antimafia. Io invito ad una riflessione, intanto perché non è la prima volta che il Presidente della Commissione Antimafia fa qualche uscita un po' particolare. Io ricordo nella circostanza, anche durante la commemorazione di Iole Santelli in aula, un intervento, un discorso che suscitò anche un po' di perplessità negli stessi esponenti della maggioranza. Insomma, non avevamo capito bene cosa voleva dire in un momento in cui, quando si va a commemorare la scomparsa di una persona, direi chiaramente che non la si butta mai in politica. Ecco, quindi già c'è questo precedente, quindi già un po' recidivo il Presidente della Commissione Antimafia. Ma la riflessione che lascio a tutti è che non sono solo le parole imbarazzanti che ha pronunciato, ma c'è anche un altro aspetto che va valutato, poi sentiremo i membri anche della Commissione Antimafia. In questi due anni e mezzo, con tutta questa arroganza anche che ha dimostrato il Presidente Morra nelle varie situazioni, non solo in questa, ma quali sono i risultati della Commissione Antimafia? Cioè, la domanda è, è stata fatta una valutazione completa su quello che è lo stato di attuazione e di applicazione del codice antimafia? È stato fatto un lavoro particolare di confronto con le procure antimafia per proporre e presentare dei correttivi che potessero andare nella direzione di contrastare maggiormente il fenomeno mafioso. Ecco, io lascio poi ai vari commenti che faranno tutti gli esponenti del centro-destra, perché anche questo è un altro punto sul quale non possiamo assolutamente non soffermare la nostra attenzione. Quindi, dichiarazioni imbarazzanti, un personaggio spesso e volentieri arrogante e a questo punto, a nostro giudizio, visti anche i scarsi risultati, però poi questo poi lo direte, lo valuterete voi. Insomma, anche sulle competenze, qualche difficoltà abbiamo nel giudicare complessivamente l'operato che è stato fatto rispetto alle numerose richieste che anche dal centro-destra sono pervenute per contrastare maggiormente il fenomeno della criminalità organizzata nella fattispecie, ovviamente il fenomeno mafioso. Grazie. Isabella? Grazie. Come vicepresidente del gruppo di Fratelli d'Italia ringrazio, intanto saluto i giornalisti e ringrazio i colleghi presidenti di Forza Italia e della Lega e anche i colleghi componenti della Commissione Antimafia. Aggiungerò due considerazioni e due ragionamenti che naturalmente sono di due livelli e due piani diversi. Comincio con il dire che l'incontro di oggi è dedicato proprio, è vero che parliamo del caso Morra, ma abbiamo dedicato la conferenza stampa al concetto di tutela delle istituzioni. Stiamo parlando di una commissione di garanzia, quindi di estremo, di estrema importanza istituzionale. Comincio dagli aspetti già citati del registro linguistico inaccettabile usati dal presidente Morra che è riuscito con le sue parole ad offendere la memoria di Iole Santelli e al di là delle appartenenze di parte a me hanno insegnato che la morte annulla tutto e che le memorie si rispettano. Questo aspetto è stato totalmente scavalcato. Contestualmente è riuscito ad offendere l'intelligenza e la libertà di voto dei cittadini calabresi tutti e insieme è riuscito a offendere in un colpo solo anche tutti i malati oncologici, punto numero 4, e aggiungo un altro elemento che non tutti hanno notato e io personalmente non solo l'ho notato ma l'ho anche ritagliato dalla sua diretta e l'ho postato perché ha anche sentito il bisogno mentale di collegare un'espressione infelice relativa all'imene femminile al concetto di verginità e su questo potremo aprire un fronte. non lo apro ma non posso non citare anche questo elemento obbrobrioso. Quindi ha messo insieme in una sola diretta gravi, gravissime direi affermazioni che arrivano a un registro linguistico che non conosce contenimento. Voglio passare a un'altra riflessione. Intanto abbiamo qui lo vedete compatto il centrodestra e quindi colgo l'occasione per dire che chiunque voglia come dire tentare il trappolone di dividerci sappia che questo non accadrà né su questo tema né sugli altri elencati anche dal collega Romeo. Il centrodestra è compatto ed è unito. E aggiungo l'ultima riflessione, quindi vado oltre il registro linguistico. Voglio dire che per certi aspetti siamo oltre una questione politica perché quando si arriva con quel linguaggio si arriva dove non si dovrebbe mai arrivare, cioè si è andati oltre. Nel senso che io ritengo che il suo linguaggio si configuri e si stigmatizzi come incompatibilità istituzionale rispetto alla carica da lui ricoperta ed è per questo che ne chiediamo le dimissioni. E aggiungo una considerazione invece più tecnica e più politica. Noi stiamo parlando della presidenza di una commissione bicamerale, ma lo diranno meglio di me i colleghi che ne fanno parte. Una commissione bicamerale di inchiesta istituita ad hoc dal Parlamento e quindi non stiamo parlando di una commissione ordinaria, stiamo parlando di una commissione di cruciale importanza e di garanzia. Una commissione che non prevede, credo nel suo regolamento, poi lo diranno i colleghi, neanche una verifica a metà mandato. Quindi non c'è appello, come dire, non c'è un controllo. E allora di fronte a queste dichiarazioni noi pensiamo che lui non sia né umanamente, lo sottolineo, né politicamente degno di restare al posto che ricopre. Quindi noi ci uniamo alle richieste di dimissione. Questa è un'azione comune promossa dal centrodestra e quindi è anche un atto politico, oltre che, direi, di rispetto per le istituzioni e per chi le rappresenta. Grazie. Grazie Isabella. Io passerei la parola in remoto alla Presidente Germini che è con il Vicepresidente Vicario Chiuto. Non so chi dei due voglia prendere la parola. Ciao Maria, buongiorno. Grazie per questo momento di confronto su un tema che ci sta particolarmente a cuore. Saluto tutti i colleghi del centrodestra. Mi fa piacere che anche su questo, su questa questione c'è un'assoluta compattezza del centrodestra. Sul caso Morra lascio la parola a Roberto Chiuto. Sì, noi abbiamo ritenuto gravissime nello specifico le dichiarazioni di Morra perché, come ha detto Anna Maria e come hanno detto gli altri che sono intervenuti dopo di lei, sono offensive nei confronti di Iole Santelli che chi l'ha conosciuta da vicino, anche in Calabria, sa che faceva la chemioterapia la mattina e lavorava al pomeriggio senza mai fare della malattia una ragione, diciamo, di limitazione della sua attività politica. È stata una leonessa, ha combattuto con un male difficile, ma l'ha fatto sempre con grande coraggio. Offensive verso i malati oncologici, anche questo è stato detto. Morra ritiene che chi ha un cancro non debba lavorare, non debba fare l'insegnante, non debba candidarsi. È veramente una affermazione incivile questa. Offensiva verso i calabresi perché vorrei ricordare che Morra ha ottenuto col suo partito il 43% in Calabria, il 48% nel suo collegio. I calabresi erano buoni allora e non lo erano quando hanno votato per il centrodestra e per Iole Santelli, ma riteniamo le affermazioni di Morra gravissime, oltre che nello specifico, anche perché sono emblematiche della sua inadeguatezza, del fatto che ha dimostrato in quest'ultima occasione, ma diceva bene Romeo, l'ha fatto anche in occasioni precedenti, di non avere l'equilibrio necessario a svolgere una funzione delicata e difficile come quella della Presidenza della Commissione Antimafia. Non ha la continenza per farlo, non ha un grado sufficiente di civiltà e di conoscenza giuridica perché ritiene che gli avvisi di garanzia siano delle sentenze definitive. più volte ha fatto affermazioni del genere. Ha fatto un uso strumentale della Commissione Antimafia, l'ha utilizzata per pavoneggiarsi, per mettere al centro della scena se stesso invece che la lotta alla mafia. E vorrei dire, l'uso strumentale l'ha fatto anche nella sua qualità di Presidente, quando fu denunciato, noi lo denunciamo, lo denunciò Iole Santelli, insieme a me e all'onorevole Mule, sei mesi prima di candidarsi. Iole Santelli tenne una conferenza stampa qui alla Camera e denunciò il fatto che Morra registrava nel soggiorno di casa sua degli indagati, li trasformava in delatori e utilizzava queste registrazioni per darle nelle mani, nelle mani, al di fuori di ogni regola di turnazione che vige negli uffici della Polizia Giudiziaria o nelle procure, nelle mani di ufficiali della Guardia di Finanza e di PM che poi comandava, distaccava alla Commissione Antimafia. Ecco, Iole Santelli denunciò questa circostanza insieme a me e all'onorevole Mule, Morra con un avvoltoio. Ha aspettato che Iole Santelli morisse per togliersi qualche sassolino dalla scarpa per vomitare tutta questa cattiveria su Iole Santelli. Ha fatto un uso strumentale nella Commissione Antimafia, l'ha delegittimata. Noi chiediamo le dimissioni perché a causa di Morra la Commissione Antimafia è delegittimata in quanto il modo migliore di delegittimare un'istituzione è quello di far guidare quest'istituzione da una persona inadeguata. E Morra, concludo, per le dichiarazioni degli ultimi giorni, ma anche per le dichiarazioni che ha fatto nei mesi passati, ha dimostrato di essere inadeguato a svolgere una funzione così delicata come quella di presiedere una Commissione importante come la Commissione Antimafia. Grazie. Presidente Molinari, lo vedo, credo sia in collegamento. Sì, grazie ai colleghi di Forza Italia, del centro-destra e del Senato per aver voluto organizzare questa conferenza stampa. Io non posso più unirmi alle tante valutazioni già fatte sull'inadeguatezza dell'attuale Presidente della Commissione Antimafia per le ragioni che sono state spiegate, per gli insulti ai malati oncologici, per gli insulti alle donne, per gli insulti a una donna che è mancata come Iole Santelli, per il poco rispetto verso il popolo calabrese che viene redarguito per come ha votato, ma vorrei mettere sul tavolo un ulteriore elemento di riflessione che forse non è ancora stato toccato, che è quello che più mi ha ferito e più mi ha colpito. È il ragionamento mentale che ha portato Morra a fare quelle dichiarazioni, è il contesto in cui Morra ha fatto quelle dichiarazioni. Vedete, Morra, dal ruolo importante che ha, perché il Presidente della Commissione Antimafia è uno che quando parla di mafia dovrebbe essere più titolato di altri, visto che il suo lavoro parlamentare si concentra su questo, ha tirato fuori quella frase su Iole Santelli mentre stava commentando l'arresto per un'inchiesta di Andrangheta di un esponente della maggioranza in Calabria. E quindi il meccanismo mentale che ha portato parla di Iole Santelli da parte di Morra in televisione è stato dire che ogni popolo ha la classe dirigente che si merita e ridarguendo i calabresi per aver votato evidentemente il centrodestra e associando tutta una parte politica a comportamenti criminosi e in questo contesto aggiunge anche che per quanto riguarda Iole Santelli tutti sapevano che era malata e quindi alla fine ognuno ha quello che si merita. È questo che è particolarmente aberrante perché questo porta a un mix tra quelli che sono i difetti principali del Movimento 5 Stelle, l'incompetenza, il non rispetto delle istituzioni, il giustizialismo talmente becero che unendo tutti questi elementi si arriva quasi a vedere la morte di una donna, di una persona come un fatto di giustizia divina che punisce una parte politica o una popolazione che ha votato in maniera sbagliata. Questo è oltre che inumano aberrante, è intollerabile. Non solo non dovrebbe più fare il Presidente della Commissione Antimafia, non dovrebbe stare in Parlamento e la domanda che io pongo è se questo è il pensiero di Morra o se questa non cultura, perché non la chiamo neanche subcultura, è la braccia che cova sotto al Movimento 5 Stelle. Se è il retropensiero che Morra ha avuto il coraggio di dire, altri non hanno il coraggio di dire. E quindi la prima questione qui è che non dovremmo essere noi del centrodestra a chiedere le dimissioni di Morra. Dovrebbero essere i suoi colleghi di partito a dissociarsi da quel retropensiero, da quelle frasi aberranti e essere indignati di essere rappresentati da un soggetto che ha il coraggio di dire una cosa come questa. Peggiorando ulteriormente la sua condizione con le presunte scuse, perché poi quando si è scusato ha aggravato ulteriormente la situazione. Quasi a dire che chiunque lo contesti per quello che ha detto che oggettivamente è qualcosa di non tollerabile, comunque da qualunque lato da si guardi, è arrivato a dire che chi è contro di lui e chi lo contesta in qualche modo farebbe gli interessi della mafia, perché lui dà fastidio alle mafie. Andando ulteriormente a ghettizzare in modo settario, a dividere la popolazione tra i buoni e i cattivi, tra chi è con lui e chi è contro, e chi è contro non è contro perché ha detto una mostruosità, ma è contro perché in qualche modo direttamente o indirettamente lo farebbe per qualche interesse oscuro addirittura associabile a quello delle mafie. Non è tollerabile tutto questo. Non è tollerabile che un parlamentare della Repubblica dica cose di questo tipo e non è tollerabile che il partito di cui fa parte non intervenga. E quindi l'appello che faccio io non è tanto a morra, è al suo partito. Il Movimento 5 Stelle non prenda solo le distanze a parole, ma sia il Movimento 5 Stelle a rimuoverlo dalla Presidenza che a dare le sue dimissioni. Grazie. Molinari, ci uniamo tutti a questo appello, che le forze di maggioranza, in particolare il Movimento 5 Stelle, dimostrino di essere indignati con fatti concreti e portino il Presidente Morra alle dimissioni. e la collega, il Vice Presidente, manda a ferro? No, la mettiamo al posto di sezione. Beh, ne approfittiamo magari anche... Dopo, sì. Abbiamo la sequenza. Buongiorno a tutti, un grazie per aver organizzato questo momento di confronto che vede ovviamente presenti coloro che insomma lo hanno messo in campo, i senatori e che ringrazio particolarmente insieme ai delegati del Capiluppo, insomma alla Camera piuttosto che ai componenti della Commissione Antimafia. Io sinceramente sono rimasta sterefatta, basita rispetto alle parole che il Presidente Morra ha avuto nei confronti di Olesantelli, in qualche modo un'offesa ad una donna che ha per una vita in qualche modo dato il massimo in politica, lo ha fatto ovviamente nella sua regione, lo ha fatto fino all'ultimo giorno e sinceramente devo dire che in qualche modo queste offese che riguardano la compianta governatrice Santelli hanno in qualche modo minato non soltanto un popolo calabrese che comunque era a conscienza anche di qualche problema di precarietà di salute che ha fatto una scelta chiara, netta nel dare fiducia a Olesantelli ma soprattutto ai tanti malati oncologici perché è un po' come dire che dovrebbero attraverso il disimpegno rimanere là attendendo la morte e io parto dal presupposto che chiunque, credo che ognuno di noi ha avuto esperienze familiari o comunque di persone vicine, deve avere invece il coraggio di combattere la malattia di lavorare fino all'ultimo giorno, di metterci la faccia e soprattutto di mettere quello che ha fatto Iole cioè qualunque risorsa avesse in corpo e devo dire insomma questo ci ha particolarmente lasciati male come commissione antimafia, avevamo chiesto in prima battuta con i capigruppo io ovviamente porgo anche il saluto del senatore Iannone Capigruppo in antimafia nonché del senatore Cirielli nel dire ovviamente che sarebbe stato giusto dire che erano espressioni sbagliate, che in qualche modo coprirsi il capo di cena ma così non è stato perché purtroppo la pezza è stata peggio del buco lo è stato nei confronti delle donne, lo è stato con espressioni forti che credo in politica debbano essere evitate ancora di più con un incarico istituzionale di grande delicatezza io vengo dalla stessa terra di Calabria dove il senatore mora vive ma dove Iole ha vissuto e da sempre ha fatto politica una terra dove spesso le parole possono essere più pesante dei proiettili e lo dico rispetto non soltanto a quella manifestazione di sindaci che in qualche modo c'è stata qualche giorno fa in piazza delle dichiarazioni altrettanto poco, devo dire, comprensibili rispetto ad eventuali arresti c'è qualcuno che in piazza potrebbe da qui a breve essere arrestato ma anche rispetto a quello che è stato detto prima del mio intervento nel dire da questa parte ci sono i buoni che combattono la mafia dall'altra ci sono i cattivi che l'alimentano quasi fosse oggetto di una sorta quasi di aggressione e questo noi non lo possiamo consentire non lo possiamo consentire perché ritengo che in commissione antimafia chiunque di noi abbia fatto costantemente il proprio dovere senza mai ricevere rispetto a nessuna cosa e a nessun episodio e questo lo dico ovviamente anche come appello a quei ruoli istituzionali che si dovrebbero mantenere pensando ovviamente non mi riferisco soltanto ai colleghi che sono in antimafia ma che siedono sia alla Camera o al Senato che nessuno possa essere oggetto in qualche modo o soggetto che alimenta la criminalità organizzata io devo dire insieme ai due colleghi abbiamo fatto una lettera al Presidente Figo alla Presidente Casellati nel dire ovviamente per conoscenza anche al Presidente Mora che non prenderemo parte alle commissioni rispetto a quella che dovrà essere una scelta credo in questo momento più che giusta e anche forse il modo per chiedere veramente scusa agli olesantelli nel non ricoprire ovviamente un ruolo di cotanta delicatezza e soprattutto il mio pensiero va ai calabresi ai malati oncologici va a coloro che in questo momento già di per sé stanno vivendo come abitanti di una terra a troppi sconvolgimenti dovuto a tutto quello che riguarda sanità e forse questo non ci voleva qualcuno ha tentato anche di ribaltare che il Presidente Molinari ha fatto questo passaggio anche con estrema chiarezza rispetto a degli avvenimenti che sono accaduti negli ultimi giorni in Calabria sull'arresto del Presidente del Consiglio regionale io ritengo che se sì in qualche modo il miglior modo per rispettare il lavoro della magistratura sia quello di non sostituirsi ai magistrati sia quello di non esprimere delle sentenze sia quello ovviamente di dire che la politica deve fare delle scelte oculate che chi sbaglia in qualche modo se sbaglia e se si dimostrerà che ha sbagliato dovrà pagare ma certamente non mischiave due argomenti perché è come fare insomma mischiave il sacro con il profano sono convinta che questa nostra conferenza stampa forse servirà ulteriormente a rafforzare nel sentimento di morra che c'è una sensibilità e che prima di essere degli ottimi politici o delle cariche istituzionali bisogna essere degli uomini che nelle cose ci mettono la mano alla mente e il cuore grazie grazie onorevole Ferro tutti abbiamo firmato un'analoga lettera a nome dei componenti della commissione antimafia pro quota i singoli gruppi parlamentari noi l'abbiamo indirizzato ovviamente alla presidente Casellati chiedendo questo e dicendo che non avremmo partecipato alle riunioni della commissione antimafia di cui peraltro Iole era vicepresidente darei la parola al presidente Lupi grazie di essere qui in presenza e solleciterei il cambio della guardia con il capigruppo della commissione antimafia grazie a tutti intanto anch'io ringrazio di questo momento da presidente di noi con l'Italia della componente noi con l'Italia cambiamo ma anche da membro della commissione antimafia mi associo e sottoscrivo tutte le cose che sono state dette in maniera sintetica due questioni le parole di Morra sono moralmente e politicamente inaccettabili moralmente è stato spiegato bene dai colleghi che sono intervenuti prima al tema della figura di Iole Santelli il tema quasi di una teoria eugenetica per cui chi è malato non può ricoprire cariche istituzionali politicamente è sotto gli occhi di tutti la ragione per cui è inaccettabile ogni parlamentare si assume la responsabilità di quello che dice ma quando un parlamentare ricopre una carica istituzionale da presidente di una commissione di garanzia delicatissima come quella antimafia con poteri speciali e straordinari non può fare quelle affermazioni perché da presidente deve garantire le istituzioni ma anche un concetto di democrazia che va al servizio di tutti per cui l'unica strada possibile è quella delle dimissioni quando si sbaglia o quando si è convinti di quello che si è fatto dimissioni che darebbero e ridarebbero ovviamente sarebbero un servizio alle istituzioni ma secondo me questo è il consiglio che do al presidente Morra sarebbero ancora di più un servizio a propria dignità personale e parlamentare anch'io mi associo che dovrebbero essere e concludo gli stessi gruppi di maggioranza Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Leo a chiedere che proprio per la tutela delle istituzioni del funzionamento dell'antimafia il presidente Morra si dimetta e faccia un passo indietro grazie ancora grazie grazie adesso diremo qualcosa a noi capigruppo dei vari partiti all'interno della commissione antimafia io parlo per conto di Forza Italia e devo dire che le parole del presidente Morra mi hanno lasciato essere fatto ha sempre avuto un atteggiamento un po' garibaldino all'interno della commissione antimafia all'interno della quale sia io ma anche i colleghi gli abbiamo sempre portato rispetto abbiamo avuto un rapporto estremamente corretto anche quando qualche volta è andato sopra le righe e un presidente di una commissione importante e istituzionale e di garanzia come la commissione bicammerale antimafia deve mantenere un equilibrio che è consono la funzione che svolge e ho chiesto approfittando dei rapporti di correttezza che c'erano stati fino a quel momento di chiedere scusa perché nella vita si può sbagliare ma si deve avere anche il coraggio di chiedere scusa e il presidente Morra invece ha rincarato la dose e quasi è stato già detto quasi a dimostrare che chi parla contro di lui fa un favore alla mafia e invece soltanto lui è l'unico baluardo contro la mafia allora deve sapere il presidente Morra che io sono onorato di aver partecipato a governi e a maggioranze di centrodestra che hanno varato normative antimafia universalmente riconosciute universalmente riconosciute come efficaci nella lotta alla criminalità organizzata e quindi è l'ultimo che può dare lezioni in questo senso perché come ha ricordato il presidente Romeo poi vogliamo vedere quali sono i risultati della commissione antimafia non credo che la spazia corrotti ha limitato le garanzie istituzionali ma non ha rappresentato uno strumento di lotta alla criminalità organizzata e allora spiace dirlo dal punto di vista umano ma quando si riveste un ruolo istituzionale quando si prendono certi scivoloni e non si ha il coraggio e la responsabilità di ravvedersi evidentemente non si è tagliati per quel ruolo il presidente Morra non è un parlamentare qualunque in quanto tale si assume la responsabilità delle sue battaglie delle sue dichiarazioni è il presidente di una commissione bicamerale importante e quindi quando proferisce parola rappresenta lo Stato rappresenta universalmente lo strumento di lotta alla criminalità organizzata però mi spiace dirlo e mi avvio alla conclusione credo che il presidente Morra sia affetto da sindrome del primo della classe cioè di chi pensa di non essere mai contraddetto e di stare sempre dalla parte del giusto e devo ricordare come all'inizio di questa legislatura questo è l'ennesimo ma non il primo infortunio del presidente Morra perché ha iniziato con la collega Leonardo che è stata appellata in tutte le maniere possibili e immaginabili poi è stata assolta con formula ampia dopo dieci anni non si è degnato di chiedere scusa per quello che aveva detto e anche nei confronti della compianta collega Santelli c'è stato una diatriba nella quale lui non ha dato conto non ha dato atto di un comportamento che non era certamente di un parlamentare di un presidente della commissione antimafia ma era di un inquirente era di un ufficiale di polizia giudiziaria era di un rappresentante dell'autorità giudiziaria e invece lui si è sostituito agli uni agli altri raccogliendo testimonianze probabilmente neanche con la consapevolezza di quelli che venivano sentiti per portarli informalmente alla magistratura non è quello che deve fare un esponente politico non è quello che deve fare il presidente della commissione antimafia per arrivare qualche giorno prima delle nefaste dichiarazioni a proposito della Calabria e della collega Santelli a chiedere la commissione d'accesso il presidente della commissione antimafia chiede la commissione d'accesso al comune di Foggia soltanto perché era stato arrestato un dipendente di ultima, di infima categoria che non aveva niente a che fare con gli appalti collegare con la burocrazia e con la politica un presidente della commissione antimafia deve pesare le parole che dice perché nell'opinione pubblica può creare confusione può creare disorientamento per tutti questi motivi io mi auguro che ci sia uno scatto di consapevolezza il presidente Morra potrà continuare le sue battaglie anche contro i mulini al vento se ritiene ma non lo potrà fare come presidente della commissione bicamerale antimafia quindi per questo motivo noi abbiamo assunto una decisione che credo sia per la prima volta non mi sembra che ci siano altri casi del genere ma la gravità delle dichiarazioni e delle circostanze ce lo impone noi non parteciperemo più alle commissioni antimafia e ai suoi comitati fino a quando il presidente Morra non assumerà le conseguenze e le determinazioni assumendosi la responsabilità dei comportamenti e delle dichiarazioni che ha fatto quindi adesso passo la parola al collega Cantana Messa che è il capogruppo in commissione antimafia della Lega grazie buon giorno a tutti mi unisco per ringraziamenti i giornalisti ma anche noi come gruppo lì abbiamo inviato sabato una lettera al presidente della Camera del Senato e allo stesso Morra nel quale chiedevamo le dimissioni e comunicavamo che non avremmo più partecipato ai lavori non solo per le frasi ignobili e vergognose dette dal presidente Morra sulle quali non mi soffermo perché già è stato fatto in precedenza ai miei colleghi e dai presidenti dei gruppi di Camera e Senato ma per un atteggiamento che ha assunto il presidente Morra sottovalutando l'importanza e del simbolo che è la commissione antimafia per tutte le persone che lottano contro la mafia la commissione antimafia ha il dovere di più rispetto a altre commissioni di vedere ciò che unisce di vedere ciò perché sono battaglie comuni perché non si può pensare che ci sia un qualcuno o un partito politico che si arroghi il diritto di essere l'unico a combattere contro la mafia dichiarazioni quali le leggo fatte dal presidente Morra che trovo di una gravità pazzesca sono di nuovo in topic trend su Twitter stavolta non per iniziativa degli amici della mafia ma di persone che spontaneamente hanno lanciato l'hashtag io sto con Morra l'antimafia è una cosa seria l'antimafia è una cosa seria ci sono persone in Italia che hanno lasciato la vita e pensare che il presidente dell'antimafia dica chi è con me è contro la mafia e chi è contro di me è amico della mafia si preoccupa di lanciare l'hashtag io sto con Morra credo che sia la presentazione plastica della pochezza della consapevolezza del ruolo che il presidente Morra rivestito e questo non lo dice solo la Lega agli amici di Forza Italia agli amici di Fratelli d'Italia perché io mi sono segnato solo alcune delle dichiarazioni fatte dalle persone della maggioranza e credo che diano anche qui il senso di quello che il presidente Morra ha fatto in questi giorni capoglupa di Leu e Camara e Senato le scuse e le precisazioni non hanno fatto che peggiorare le già gravissime frasi che hanno feso alla memoria di Iole Santelli le parole del senatore Morra non sono terribili solo da un punto di vista umano c'è una linea di confine che non andrebbe mai oltrepassata Teresa Bellanova Italia Viva ministro dell'agricoltura il presidente Morra è riuscito a offendere i suoi lettori ammalati cittadini calabresi e tutti noi il ministro Bonetti per le varie opportunità la preoccupazione del PD è ora quella che grazie alle sbagliate e pericolose affermazioni del suo presidente il lavoro e l'autorevolezza della commissione antimafia vengano messe in discussione senatore Franco Mirabelli vicepresidente senatore del PD e caporuppo del commissione antimafia le parole del senatore Morra sono indegne per chiunque abbia un minimo di sensibilità umana in particolare indegna per una così importante rappresentante delle istituzioni deputato generale migliore Italia Viva e potrei continuare di tutte le persone che della maggioranza si sono resi conto non solo della gravità della volgarità delle offese all'Iole Santelli alla quale mi legava una sincera amicizia e profonda stima per come ha portato avanti tutte le battaglie ma l'inadeguatezza rispetto al ruolo politico perché non è pensabile ripeto che passi un concetto in base al quale chi è con una persona è contro la mafia chi è contro di lui è a favore della mafia fare antimafia significa esattamente l'opposto noi in commissione tutti i gruppi ci siamo sempre sforzati di votare tutti insieme o nella peggiore delle ipotesi ci siamo astenuti proprio perché credo sia un dovere vedere ciò che unisce nella battaglia della mafia grazie il vice presidente della commissione antimafia buongiorno a tutti ho il piacere di essere vice presidente della commissione antimafia non ho lo stesso piacere di essere vice presidente e presidente morla in premessa dico subito a scanso di ogni equivoco che noi non abbiamo nessuna intenzione di lasciare nelle mani del senatore morla e dei suoi componenti il vessillo dell'antimafia non è suo non è della sua gente ma è della stragrande maggioranza degli italiani e dobbiamo anche dire in questo momento di verità che non è la prima volta è stato anche detto da tanti colleghi che il senatore morla si comporta in questo modo ma adesso ha raschiato il fondo del barile io per utilizzare una metafora ho detto che la presidenza della commissione antimafia a volte l'ha intesa come il pastorale per intenderci il bastone del vescovo per pontificare per farsi bello altre volte invece l'ha utilizzata come una clava per colpire utilizzando quella postazione di garanzia di visibilità per colpire gli avversari polizi adesso l'ha fatta grossa perché è stato un crescendo perché quando ha provato ad azzardare delle scuse ha continuato ad allargare l'agio dell'offesa ha cominciato con gli santelli poi è arrivato ai calabrese malati oncologici alle donne addirittura come Mosè ha diviso gli italiani chi è con lui è contro la mafia chi non la vede come lui è a favore della mafia quindi la gravità è stato detto prima di questi comportamenti ha delegittimato non solo il suo ruolo ma ha delegittimato con la sua presenza capo della commissione antimafia l'intera commissione che come ha detto prima il collega Vitari la commissione antimafia non svolge un ruolo inquirente Morra non è a falli il poliziotto la commissione antimafia anche per venire alla sollecitazione legittima del mio capogruppo Romeo è una commissione che viene istituita di legislatura in legislatura laddove il Parlamento ne preveda ancora la necessità l'utilità perché sia da supporto al Parlamento perché con il passare del tempo la commissione possa aiutare il Parlamento a raffinare a migliorare la legislazione antimafia in tutto il suo complesso questo io credo che il presidente Morra non lo abbia capito e ho portato qui con me questi due tomi non perché volessi venire qui carico ma perché dall'inizio con il nostro capogruppo con Gianluca Cantalamessa ma anche con tanti altri colleghi avevamo pensato di partire da questi due tomi per il lavoro della commissione cosa sono questi due tomi uno è la relazione conclusiva della presidente Rosi Bindi della commissione antimafia della precedente legislatura e l'altra udite udite è il primo materiale su cui avremmo potuto lavorare con questa commissione ma chissà perché il presidente Morra si è sempre dileguato la relazione del secondo semestre 2018 trasmessa alla commissione antimafia lo dico la stampa in maniera tempestiva dettagliata da chi all'epoca era ministro dell'interno ovvero Matteo Salvini ripetutamente abbiamo chiesto di ripartire da questi due documenti per non verificare il lavoro né della commissione della scorsa legislatura né del ministero dell'interno aggiungo per inciso che in entrambi i documenti è prevista come una massima attenzione da dare alle mafie straniere in entrambi i documenti ci sono dei focus sulla mafia nigeriana in entrambi i documenti si attenziona alla pericolosità di queste mafie che non solo sono organizzate come le nostre ma addirittura sono più cattive delle nostre ma di queste attenzioni non abbiamo mai avuto il seguito che avrebbero meritato quindi per concludere io non posso che associarmi ovviamente in maniera spassionata a questo accorato invito perché il presidente Morra si dimetta in quanto può delegittimarsi lui con atteggiamenti che ormai non sono più sostenibili ma non può permettersi di delegittimare non soltanto la commissione antimafia con questi comportamenti ma soprattutto la storia di chi l'antimafia è veramente la scritta a cominciare da gloriosi magistrati su tutti Borsellino e Falcone grazie grazie se non ci sono domande possiamo ritenere chiusa ringraziamo ancora gli amici della stampa per l'attenzione che hanno voluto dare a questa nostra iniziativa buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti